Contro natura, ancora contro natura Rita, ancora contro natura, sogno erotico più ricorrente di Rita, sogno irrealizzabile di Rita, una carnefisina qua dietro. Rita tradisce il marito, non ci deve venire, non ci deve venire, non ci deve venire, Rita tradisce il marito, masochista è il marito, a sorpresa il marito tradisce Rita. Rita lo viene a sapere, rivediamo il marito tradisce vita, Rita lo viene a sapere. Si è su inseriti talmente a meraviglia che è quasi un peccato interrompere. È parecchio tempo che non si sente il marito di Rita. Peppe, 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 perché è di Peppe che si parla? Perché è Peppe stavolta il ragazzo in questione? Peppe, Peppe, sembra poi di fatti un ragazzo tranquillo, Peppe, ma è scritto da una fastidiosa forma d'ansia. Ansia, Peppe, ansia, Peppe, ansia. Ansia, Peppe, questa ansia, Peppe, ansia.